Toccati è lavoro, Toccati è divertimento, Toccati è ricordo di quello che era il quartiere quando è nato Toccati. Toccati è incontro, è passione, è ripresa degli spazi. È sorpresa perché si scoprono sempre cose nuove, è creatività ed è memoria. È impegno, collaborazione e confronto. Quello che mi viene in mente è la gioia negli sguardi e nei sorrisi dei volontari e di chi ha lavorato il festival una volta terminato. Una cartolina di Toccati, il cortile mercato vecchio che si trasforma nei giorni del festival in grande luogo di incontro, di comunità, di persone che vengono sia dall'Italia che dal mondo e che lì si danno appuntamento. Toccati in realtà è un grandissimo caos, caos ludico. È veramente l'apertura massima di una città. Toccati in realtà è un grandissimo caos. Toccati in realtà è un grandissimo caos. Grazie a tutti